Ciao ragazzi, siamo a casa di Marco Venimark, uno dei più grandi collezionisti di videogiochi che ci sono in Italia. Ci ha lasciato filmare alcuni dei suoi videogiochi solo perché oggi festeggia il suo compleanno e noi ne approfittiamo per farvi vedere quello che lui colleziona, cioè la perfezione in cui lui tiene alcuni dei cabinati con i quali noi ci siamo divertiti negli anni, fine degli anni 70-80. Oggi vi facciamo vedere Superbug, ci sta giocando Andrea, ai 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 ai, ci ha anche rimesso le pinne. Era sul record. Era sul record, esatto. Ecco ho perso. Atari 1977, ragazzi qua siamo veramente alla storia. Ma voglio farvi vedere i tasti che li abbiamo già visti su Le Mans. Qui addirittura parliamo di Key Games, nel momento in cui l'Atari voleva pagare meno tasse negli Stati Uniti per riuscire a evadere qualcosina, poi è ritornata a essere Atari e basta. Infatti anche il volante è Key Games, non si vede perché è molto buio qui. Hai già perso? No, no, sto andando. Ah, stai andando? Ma sempre dritto. Ah, eccolo qua. Non so se qualcuno di voi si ricorda questo gioco col maggiolone giallo, ma era un mito negli anni, alla fine degli anni 70. Io ci ho giocato per un piccolo periodo e mi sono veramente divertito. Ale è in bagno? Sì. Ale è in bagno. Abbiamo scoperto che Alessandro è andato a fare una pisciatina. Eccolo qua. Ciao Alessandro, ciao ciao. Comunque questo cabinato andava ancora a 100 lire. Tanto per rendersi conto. Comunque è un gran pezzo veramente. Complimenti a Marco, lo ringraziamo perché ci ha lasciato filmare questo pezzo di storia. Grazie. Buona serata. Adesso vi faremo vedere altre cose ma le pubblicheremo un po' alla volta perché sono dei pezzi veramente fantastici. Ciao.